In merito alla triste vicenda del bambino annegato presumibilmente a Miravilandia, sono sorti nuovi dettagli inerenti non a pochi secondi, ma 8 minuti in cui la vittima è rimasta sola. Dunque gli 8 minuti costituiscono la durata complessiva del fatto, cioè dal momento in cui il bambino si allontana dal luogo in cui la madre l'aveva lasciato al momento in cui viene rinvenuto purtroppo cadavere. Quindi non è corretta, non è esatta la circostanza secondo cui la madre aveva abbandonato il bambino per 8 minuti, verosimilmente l'ha abbandonato per molto meno e quando è tornata non l'ha trovato sul posto e quindi si è messa a cercare il figlio. E quindi in questo arco temporale 8 minuti va inserito anche questa ricerca della madre del bambino. 8 minuti ripeto costituiscono la durata complessiva purtroppo dell'evento, 8-10 minuti. E in questo lasso di tempo nessuno si è avvicinato? Comunque erano tutti prese da un momento di relax o a vivere questo momento di divertimento al parco? Come fossero presi non lo sappiamo, è stato di fatto che il bambino si è recato presso la piscina dove c'erano altri bambini che stavano facendo il bagno, ha giocato. Come sapete c'è un filmato che descrive bene tutto il fatto perché c'erano delle telecamere puntate su quella piscina, dopodiché man mano ha perso contatto con il pavimento della piscina stessa perché l'altezza della piscina arrivava fino a 1,10 m che in grosso modo corrispondeva all'altezza del minore. E quindi dal gioco è passato purtroppo ad annaspare perché non toccava più il fondo o quantomeno non riusciva ad emergere. E solo più tardi, dopo qualche minuto, uno di questi bambini ha segnalato al bagnino che c'era questo corpo esanime che galleggiava sull'acqua. Al momento sono stati individuati ben 10 indagati? Sì, diciamo circa 10 indagati che domani avranno occasione di partecipare al conferimento dell'incarico per accertamento irripetibile, cioè dell'autopsia sul cadavere del minore e questo a loro garanzia in sostanza. Per quanto riguarda il ruolo, la figura di questi soggetti, a parte la madre e un bagnino, non è dato sapere al momento? Diciamo che corrispondono a profili di competenza diversificati, ci sono vari strati di competenza in quel contesto complesso, è un parco di divertimenti così importante e ognuno dei quali per quanto di propria competenza dovrà eventualmente rispondere, ma considerate che le indagini sono in corso e quindi avremo ulteriori elementi solo all'esito delle indagini che si preannunciano e già si possono considerare complesse anche da un punto di vista tecnico. Quindi al momento è stata sentita la madre o non è stato sentito nessuno? È stata sentita la madre, il verbale è stato interrotto perché le dichiarazioni della madre ovviamente erano il tenore per cui avevano lasciato il bambino da solo, sia pure per poco e questo già di per sé costituisce elemento di possibile responsabilità. Solo la madre e invece il padre era assente in quella giornata? Il padre era assente, ovvero era defilato, era in un'altra zona del parco e quindi non è coinvolto. Sì, quando è arrivata, erano una zona del scopo. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero.